Ok, eccoci qua, allora, ciao a tutti, oggi insieme ai miei due aiutanti, soprannominati Mimì e Cocò, proviamo a fare questo, io sono contro gli slime in generale, però diciamo che è anti slime, sono anti slime, solamente che diciamo che mi sono un po' ammorbidita e quindi oggi facciamo questo qua, questo l'ho trovato in edicola, è il laboratorio Schipidol slime, all'interno è fatto così, tipo il coso delle LOL, e all'interno c'è un misurino, una spatoletta, due colle, noi abbiamo, cioè io almeno, io ho preso, no questo è l'attivatore, non è il liquido per lenti, l'attivatore, questo qui, che serve praticamente per due slime, amore, così sembra che c'è al terremoto, guarda, guarda come trema, e dentro ci sono due colle, allora io ho voluto prendere queste due, un... la confezione praticamente con la colla rosa e la colla celeste con i glitter, la colla rosa no? Questa è metallica, è metallica, è metallica, vedete com'è, com'è pratica questa roba, però ci sono anche, però ci sono, hai ragione, però ci sono anche altre due confezioni che sono queste, queste qua, che non so voi come vediate, comunque queste due, quest'altre due, che hanno all'interno quella viola e quella arancione, e un'altra, che è quella con il tappo blu praticamente, e quella con il tappo verde, che c'ha verde e argento, mi sembra, comunque noi adesso proviamo queste, argento, verde e bianco, bianco, vabbè, io sono un po' ad Antoni, vabbè, oggi proviamo queste, se ci piace, gliele pio con le altre due, così almeno pace fatta, se sollevati la voglia, e finisce qui la roba dello schifidol, allora, partendo dal presupposto, io non l'ho mai fatto, quindi non so manco come funziona, loro le istruzioni le sanno, allora, hanno deciso di farlo lei metallica, che c'è anche scritto metal, pensa un po', e lui glitter arceleste, poi, allora, nell'attivatore, qui c'è scritto, che mezza confezione di questo, serve per una confezione di questi, che è da 88 ml, quindi, praticamente con una confezione, ce fate due schifidol, prima ci mettono le polli, allora, vediamo come si fa, perché io non l'ho mai fatto, allora, persa metà del contenuto in una ciotola, allora, quindi, mezzo di questo, però prima dovremmo mettere carne, le colle, no, quanto, mezzo, mezzo, e questo a che serve, vabbè, questo è 88 ml, 88 diviso 2, dai, 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 qui si vede la tua bravura a scuola e matematica, dai, 88 diviso 2, allora, 88 diviso 2, l'8 nel 2 ci sta? L'8 nel 2 ci sta 16, ah no, aspetta, no, 8 per 2, l'8 nel 2 ci sta? Il 2 nell'8, scusate, mamma capra, il 2 nell'8 ci sta? Sì, quante volte? 2, 4, 6, 8, 8, 4 volte, 4 per 2, 8, 8, 0, 0 resto, quindi, quante volte se 88 diviso 2 fa? Se 88 diviso 2 fa 4, 88 diviso 2 fa? 44 Bravissimo, ho stato in conversion, ce l'abbiamo fatta, allora, 44 ml, tutto questo per farlo, così ripassiamo anche, allora, 44 ml, aspettate, eh già, sì, povere mie unghie, e il terzo, scusate, no, no, madonna, sembrava che c'aveva l'odore della mela, vabbè, 44, scusate la parolaccia, eh, dei primi, 44, mi sembra ad essere in chimico, 40, 44, ok, allora, questo lo mettiamo qua, per forza di cose, il rimanente dovrebbe essere anche rettanto 44, e invece, no, è meno di 44, cosa abbiamo sbagliato, mamma, è 30, risolviamo il problema, no, è meno di 40, risolviamo il problema, è 30, fermo, risolviamo il problema, perché questa non ti erano un cavolo, speriamo che questa cosa, di all'effetto desiderato, allora, qua, sembra che sia di mela, te l'ho detto che è il profumo di mela, eh, te mi dai retta? Profumo? No, 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 no. allora continuiamo li metteremo dentro adesso che dobbiamo fare? dobbiamo metterci la polla e girare con le spatolette non serve il bicarbonato di sodio no il bicarbonato non serve perché c'è quello lì come si apri? ah c'è il trucco devi solo tirarlo è chiuso anche questo e di dentro ma scusa ma lo dovrò mettere dentro da questo? si ma lo dobbiamo levare questo allora ti devi aprire il tappo bianco ma non si leva ora si ok qua non ci riesco c'è il tappo c'è il tappo eh 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 tanti numi eh tanti numi eh ecco qua oh pregos tutta la colla eh via buttate dentro e vediamo che esce wow è bellissima metà previ previ come fa la tutorella se no ci mettiamo cent'anni stiamo ancora qui ragazzi cioè il rumore la dice tutta il rumore dice tutto fa le scorreggie fa le scorreggie si dice fa le puzzitte a posto abbiamo fatto il primo danno abbiamo fatto il primo danno la scasoletta ne la collano ah dobbiamo finire tutta la capito ma non scende è sceso allora famo così eh allora Alessandro fai una cosa molto molto più utile in questo momento vai a prendere i tuoi vaioli ok ok esatto non ti preoccupare basta sotto il braccio per prendere i tuoi vaioli io intanto giro io intanto giro ma a te te è scesa tutta sì no l'hai lasciata un po' vedi no questo è dintorno non è non esce è dintorno dove lì sopra la penisola c'è il tuo vaiolo io intanto giro appartamento vaiolo ecco lì no inizia a formarci oh mio dio inizia a formarsi dammi un tovagliolo tutta la scala tutta la scala non ci abbiamo più tovaglioli sei potenza tovaglioli come vamo tocca riuscire a naprire i tovaglioli grande Emanuela che si è scordata inizia a formarci guardate adesso sono un po' sufege io ti ok io seguo i miei contro dei i miei contro dei fanno mamma mia dai gira tutto dai gira blea soldi mila tutto lo sai soldi mila già inizio a formarci e piano Ale che fa allora inizio ragazzi usare secondo me questa è stata un po' fail io inizio ad usare le mani perché è stato un po' fail dove metto come usare le mani ma perché se devi usare le mani pure per far sto coso quando è ben denso quando senti che è ben denso devi usare le mani devi usare le mani è denso a me mi fa schifo già così dove metto metto un tovagliolo per posare lo stecchino qua andammi ma siamo sicuri che funziona così sta geggio funziona così funziona così quando senti che è ben denso usa i mani ed è ben denso cioè questo sarebbe denso? sì più o meno secondo me ci andava più colla no mamma è troppo la mia è denso è troppo colla ci abbiamo messo troppo colla no era tutta colla voglio sentire quanto fa schifo dopo però mi ha dato che lavo le mani cioè io dopo questa è stato un piacere questa cosa finirà così perché io non so più come ok ci servirebbe un tavolo da lavoro pure dobbiamo comprarlo sì certo per fare gli slime che schifo fa schifo fa schifo bene allora non lo compriamo più non lo compriamo più ecco perché non volevo fare il video ecco perché non ve l'ho mai comprato perché fa schifo perché fa parecamente schifo ma quindi il liquido non è vero perché sta tutto nella ciotola no non ci piace servirebbe l'altra colla il liquido fermentino e il bicarbonato ancora però servirebbe l'altra colla secondo me per farlo diventare più mamma è troppo la colla facciamo una cosa questo è stato il primo tentativo dobbiamo provare con un secondo barattolo però dobbiamo comprare pure la colla perché secondo me perché secondo me questa colla è troppo poca mamma fa schifo mi si è attaccata a tutto posso dire una cosa io butto tutto ma fa schifo solo a guardarlo vabbè mentre loro continuano a giocare con lo schifido io vi saluto e finiamo qua perché non è proprio una cosa fattibile quindi baci a tutti tutto un bacione un bacione slimeoso lei è contenta lei è bene da loro io so poco contento perché fanno schifo wow faceva un effetto veicolo mamma lo sai comunque questo con questo si possono fare i bolli effetto veicolo ma il suo è venuto meglio certo che è venuto meglio a noi non c'è si è adenzito si è adenzito si è adenzito no è denso si è adenzito e tra un pochino devo ah dopo devi provare a fare il collo la bolla la bolla si devo aprirlo ah ma quindi se deve cioè fa sto lavoro con le mani eh si sposta la ciotola e poi la bolla quindi no no non deve esserci proprio davanti a niente aspetta è attaccato il tuo aialo no Alessandro cosa hai fatto mi sa che non mi vengono i bolli non ne sono molto brava Ale me l'hai stucoso ci abbiamo lo slime ci abbiamo lo slime alla carta Ale me l'hai visto cosa schifoso dalle mani ma non ci riesco ma non ci riesco a me fa schifo ma anche a me fa schifo è davvero divertente lui io so che no non è divertente non è divertente secondo me è divertente per voi no perché vuole far schifo però questo è metallica mi piace guardate quanto fa schifo è in verità è schifoso aspetta fammi provare a fare la bolla sembra vomito che schifo e a me sembra slime ma ora questo dove si tiene dove si conserva in una scatola in una scatoletta non lo so proviamo a fare la bolla e provaci quasi impossibile quasi impossibile serviva più cola di questa no no penso che proprio era anche così adesso l'avevo fatta piccola poi si è smogliata ma perché non me c'è ma ma fa cattivile ho tutti i pezzi di slime ma si fa maglia l'anello dopo ce l'aviamo le mani l'anello l'anello no sordo sordo vabbè divertitevi con lo slime ok bye bye ciao a tutti a un altro giorno guarda questi sono pezzetti del tuo slime lo so riprendo aspetta oh no no hai visto? sai che a Sofì non piacciono le palline si le palline non lo so proprio no e ciao 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 ciao